La vita è l'unità, se lo chiede la vita è la vita, la vita è la vita, la vita è la vita. Mi ha fatto trovare i Kinder Bueno nel camerino, sei un bastardo. Non lo dovete fare, non lo dovete fare. Oggi aveva i mini mazzi, mi ha fatto trovare tutto, poi mi ha portato a mangiare dietro, sono pieno di pollo al curry. Dove mi interesse tutti. Ma che cosa mangiate? Questi sono mazzi, mangiano pollo al curry a chili. Sì, 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 sono. Di che rari? Il Mario. Mario, 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 Mario. Mario, 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 Mario. Siccome io non ci hanno parlato con un buon armonitore, non ci hanno parlato con l'armonitore. Ah, eccoci qua. Io ti invidio i tuoi fans. Sì, perché sono pazzeschi, però te ne potresti pure andare. ci fanno tutti loro e loro il concerto lo fanno però dovete sapere che noi insomma abbiamo fatto una canzone insieme più voi dovete sapere che io non sono un cantante però come autore di canzoni nella mia vita ho avuto Josue Carducci per San Martino e Max Pezzali per Finalmente Trabò sono io allora facciamo aspetta 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 ecco metto questo allora facciamo e ci siamo forza ragazzi abbiamo qui il gruppo San Martino San Martino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie.